Avete un po' la gamba ancora legata Ci vuole un'altra mazzurca Però su questa notte volevo salutare con affetto Visto che ci andavo ai tempi dell'orchestra di mio papà, Franco Bergamini Il gestore dell'Odeon Club di Sant'Arcangelo Che penso che sia da qualche parte Il signor Angelo, se non sbaglio, vero? Signor Angelo, dov'è? Dario! Ah, no, come Dario? No, Dario, Dario dell'Ero Club Invece Angelo è giusto Sì, bravo, è giusto Dov'è il signor Angelo? Posso vedere? Arriva! Angelo, buonasera Un piacere di vederla, veramente Bene, allora, la mazzurca Ritorna la mazzurca Arriva Moscotte Alla! Amo, c'è anche Dario dell'Ero Club Ciao Dario! Oh... Vai così con la gambezza Ehi, oh! Oh! Ehi! Ha, 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 ha! Si, can't do this, right? Hey! Ehi! Pronti con la gamba, mi raccomando, eh? Pronti con la gamba, mi raccomando, eh? Vai così! Ehi, oh! 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 Da cá, poi! O taglio viene qua, che te asciuga, o taglio viene qua! Ehi, oh! Morirò! Attenzione la gamba! Vai Sacker! Ehi, eh! 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 Ma che dire, complimenti, bravi! Fate un bel applauso a Marco Taglierini e Gabriele Saccherini! Allora, come va? Va bene? No, perché ogni...